Benvenuti o bentornati sul mio canale, il mio nome è Chiara e sono appassionatissima di cronaca nera e proprio su questo canale voglio trattare casi nazionali ed internazionali. Per il caso di oggi ci troviamo negli Stati Uniti. Allora, il caso che andrò a trattare oggi volevo farlo da tantissimo tempo, da quando ho aperto questo canale. È un caso veramente che ha dell'incredibile, lo so che l'ho detto già di diversi casi, ma questo è allucinante proprio perché l'omicidio che viene commesso, o meglio gli omicidi che vengono commessi, vengono commessi da una persona che aveva escogidato tutto nei minimi dettagli e stava quasi per farla franca, quasi. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale ed iniziamo subito con la storia di oggi. Il caso di oggi è la storia di Donna e Mark Winger. Donna nasce il 10 novembre del 1963 come Donna Ellen Brown, dai genitori Sarah Jane e Darren Brown. La sua famiglia è di religione ebraica e quando donne piccole i genitori divorziano. Cresce nella città di Hollywood in Florida e rimarrà per tutta la vita estremamente legata alla sua famiglia, soprattutto a sua madre e alle sue due sorelle più piccole, Michelle e Jenny. Sin da quando era giovane Donna sogna una famiglia numerosa, un po' diciamo come la sua. Era una ragazza estremamente solare, che parlava sempre con tutti, molto socievole. Negli anni 80 Donna era una ragazza che apparentemente aveva tutto, uno splendido rapporto con la famiglia, con i suoi amici, un buon lavoro. L'unica cosa che sembrava mancarle era forse la presenza di un uomo. Così accetta un appuntamento al buio con un certo Mark, Mark Winger, che era stato proprio organizzato dal fratello dell'uomo. Mark sembrava davvero l'uomo perfetto per Donna, quello che lei stava cercando da tutta la vita. Era bello, aveva un grosso senso dell'umorismo, veniva tra l'altro da un'ottima famiglia di religione ebraica e lavorava come ingegnere nucleare. Inoltre Mark desiderava tanto una famiglia numerosa, proprio come Donna. Anche la famiglia della ragazza la vede così felice, così serena, che non poteva non voler bene a Mark. I due sembravano veramente una coppia affiatata. Sembrava che per l'uomo Donna fosse sempre la sua priorità, cercava di fare di tutto per renderla felice. Il 4 marzo si sposano nella città di Hollywood in Florida. Poco dopo le nozze, a Mark viene offerto un lavoro nella città di Springfield, in Illinois. I due si trasferiscono lì, ma nonostante la distanza, Donna rimane sempre molto legata alla sua famiglia, che vede ogni volta che può. Springfield era una piccola realtà, apparentemente un posto sicuro e tranquillo. La popolazione era di circa 15.000 abitanti. Donna trova lavoro come tecnico di sala in ospedale, al Memorial Medical Center. Si trasferiscono in una graziosa casa, al Westview Drive, in un subborgo di classe medio-alta. C'era però qualcosa che, diciamo, rovinava la loro felicità. Infatti, Donna purtroppo non riesce a rimanere incinta, e dopo anni di enormi frustrazioni, scopre che purtroppo non poteva avere figli. I due desideravano tanto una famiglia numerosa, e quella era certamente una notizia che creerà delle tensioni nella coppia. Soprattutto Mark non si era dimostrato, ecco, molto comprensivo, ma dopo poco iniziarono a valutare la possibilità di adottare. E il destino gli venne incontro. Infatti, un giorno, Donna si trovava a lavoro, in ospedale, e sente parlare uno dei suoi colleghi, un medico, che stava raccontando di una sua paziente, una teenager, che era rimasta incinta, ma non poteva tenere il bambino, o meglio, la bambina. Quindi stava cercando dei genitori adottivi. Donna si gira immediatamente, e dice che lei e Mark erano interessati, e sarà proprio quella la bambina che andranno ad adottare, che chiameranno Bailey. La bimba nasce il 27 maggio del 1995, e arriva nelle loro vite il primo giugno di quell'anno, quindi qualche giorno dopo. I due, Mark e Donna, sono letteralmente al settimo cielo. Mark documentava tutto con foto e video, sembrava anche lui essere davvero grato per il suo nuovo ruolo da padre. Dianne Schultz era una delle più care amiche di Donna. Le due si erano conosciute sul suo posto di lavoro, ed erano diventate subito molto unite. Il marito di Dianne si chiamava John, e Donna John, Dianne e Mark, uscivano spesso insieme. Erano, diciamo, i loro più cari amici, e Dianne si considerava per Bailey una vera e propria zia. Donna, insomma, stava vivendo veramente un periodo sereno della sua vita. Ha un lavoro che la appassiona, delle amicizie consolidate, e soprattutto era diventata mamma, il suo più grande desiderio. Purtroppo, però, questa felicità durerà ben poco. Infatti, tre mesi dopo, martedì 29 agosto 1995, accade qualcosa di orribile. Donna viene brutalmente uccisa in casa sua. Quel giorno Mark chiamerà il 911. Racconta che stava correndo sul tapirulan nel seminterrato, quando sente dei rumori forti provenire dal piano di sopra. Si reca prima in camera da letto, e vede Bailey, la bimba che ha solamente tre mesi a questo punto, che giace sul letto senza la madre. Chiaramente, Donna non l'avrebbe mai lasciata da sola appunto sul letto, sarebbe potuta cadere, sarebbe potuta fare male. Così, prende la bimba e la poggia nella culla. Dopodiché, in preda al panico, si reca tramite il corridoio nella sala da pranzo. E lì vedrà una scena che non dimenticherà mai. Sua moglie, Donna, era a terra in un mare di sangue, e c'era un uomo sopra di lei, che brandiva un martello, e la stava aggredendo, colpendola la testa ripetutamente. Mark racconta che quando era salito al piano di sopra, l'uomo si era girato, lo aveva guardato, poi si era voltato nuovamente verso Donna, e aveva continuato a colpirla. Aveva così preso la pistola, che era regolarmente registrata a suo nome, ed aveva sparato all'intruso una volta, probabilmente uccidendolo. Quando l'uomo chiama il 911, sia Donna che l'aggressore a cui Mark aveva sparato, erano ancora vivi. Mark, mentre era al telefono con l'operatore, dice di dover attaccare, perché sua figlia Bailey stava piangendo, ma promette che avrebbe richiamato, e così fa. Nella seconda chiamata, grida istericamente, che sua moglie stava morendo lì a terra, e dovevano mandare un'ambulanza immediatamente. L'operatore chiede chi fosse che l'uomo, e lui dice di non conoscerlo. I servizi di emergenza arrivano sulla scena, e alla polizia la ricostruzione dei fatti, sembra piuttosto chiara. Alla polizia la ricostruzione dei fatti, sembra piuttosto chiara. Un intruso si era introdotto in casa, magari per aggredire la donna, pensando che fosse sola, essendo suo marito al piano di sotto. E quando Mark se n'era accorto, aveva preso la pistola, per legittima difesa, gli aveva sparato due volte alla testa. Il detective Charlie Cox, estrae dalle tasche di questo intruso, che giaceva morente a terra, il suo portafoglio. E all'interno c'erano i suoi documenti. Quell'uomo si chiamava Roger Lee Harrington, e aveva 27 anni. La casualità volle che Charlie, il detective che lo identificò, conosceva di persona Roger Harrington. Charlie era infatti il proprietario di diversi trailer park, e Roger era uno dei suoi affittuari. Sapeva che Roger fosse un ragazzo un po' particolare, un po' aggressivo, attacca a brighe, aveva avuto delle liti domestiche, anche piuttosto accese. Quindi, in un primo momento, ritené plausibile il fatto che avesse potuto commettere un omicidio, di quel tipo. Anche se certo un conto è alzare la voce, o avere una rissa in un bar, un altro è uccidere a martellate una donna. Sono, insomma, due cose ben diverse. L'attacco a donna, infatti, era stato brutale. C'era sangue ovunque, come anche materia cerebrale sulla scena. Come se quell'uomo fosse stato preso da un raptus omicida. Il martello era di Mark e donna. Non l'aveva portato Roger. Seduto sul letto, disperato, Mark racconta quello che vi ho spiegato prima, quindi come erano andate le cose, e poi racconta di aver sparato all'uomo due volte, mentre, come vi avevo già detto, all'operatore aveva detto di averli sparato una volta. Effettivamente, però, Roger era stato colpito da due proiettili. Il primo colpo lo aveva fatto cadere all'indietro, ed una volta a terra, Mark si sarebbe avvicinato all'intruso e gli avrebbe sparato nuovamente alla testa. La pistola viene trovata sul tavolo della cucina, così come un pacchetto di sigarette, ed un contenitore portatile giallo, un contenitore, insomma, da caffè, come una tazza, diciamo, da asporto. Le sigarette e quella tazza da asporto non erano, però, della famiglia Winger, ma erano di Roger. Le aveva portate lui. E ovviamente questo è un po' strano, no? Perché se ti introduci a casa di qualcuno, soprattutto per aggredirli, ti porti sigarette e il caffè, fondamentalmente. Inoltre, il martello non era di Roger, quindi Roger avrebbe portato il caffè, le sigarette, ma non l'arma con cui commettere l'omicidio. Mark, infatti, sostiene che aveva lasciato precedentemente quella sera il martello fuori, sul bancone della cucina, in bella vista. E questo l'aveva fatto affinché Donna si ricordasse di appendere degli scaffali. Perfetto proprio per Roger, che aveva trovato così l'arma del delitto per uccidere Donna proprio in casa sua. Al di fuori della casa era parcheggiata la macchina di Roger nella direzione opposta rispetto il senso di marcia. E all'interno troveranno un biglietto con scritto Mark Winger, il loro indirizzo ed un orario le 4.30 del pomeriggio. Il detective Cox si avvicina a Mark e gli chiede se conoscesse un certo Roger Harrington. E Mark dice sì che lo conosceva, che nell'ultima settimana gli aveva perseguitati. La settimana precedente, infatti, Donna si era recata in Florida per trascorrere del tempo con i suoi genitori ed aveva portato anche Bailey per farla stare con i nonni. Donna si era recata da sola in Florida visto che Mark doveva lavorare. Sua madre, così, per cercare di aiutarla nel viaggio di ritorno, aveva noleggiato per Donna e Bailey un transfert dall'aeroporto con la BART Transportation. Quindi una volta atterrata ci sarebbe stata una macchina ad aspettarla per riportarla a casa da Mark. E l'autista che aveva guidato quella macchina era proprio Roger. Nelle due ore che trascorsero insieme, quindi nel tragitto dall'aeroporto fino a casa sua, Donna prova un forte disagio nei confronti del ragazzo. innanzitutto aveva guidato al di sopra dei limiti di velocità per la maggior parte del tempo. Inoltre aveva parlato di cose abbastanza inquietanti come del fatto che sentisse delle voci nella sua testa o che sentiva continuamente la voce di uno spirito a cui aveva anche dato un nome, l'aveva infatti chiamato Don. E che questo Don gli diceva di fare delle cose orribili come commettere degli omicidi ed infine racconta che spesso partecipava a delle feste di sesso selvaggio e di scambisti e aveva chiesto a Donna se magari un giorno di questi voleva andare lì con lui se voleva partecipare. Donna ovviamente arriva a casa stanca e traumatizzata chiama infatti immediatamente sua sorella per raccontare dell'accaduto. Era chiaramente scossa al punto di temere che l'uomo potesse presentarsi a casa visto che comunque sapeva dove Donna viveva. Quando Mark lo viene a sapere va su tutte le furie e presenta un reclamo alla società Barth Transportation specificando ogni singola cosa che questo Roger aveva detto a sua moglie. Quella settimana avevano inoltre ricevuto delle chiamate da un numero anonimo che chiedeva sempre di parlare con Donna. Quest'uomo al telefono non si era identificato ma i due ritennero che si trattasse di Roger e ne erano veramente spaventati. Così contattano nuovamente la Barth Transportation e raccontano anche delle chiamate anonime così la compagnia decide di sospendere Roger. A Detective sembra chiaro che Roger avesse sviluppato una vera ossessione per Donna e che visto anche il fatto che era stato licenziato o sospeso dal lavoro volesse in un certo senso vendicarsi sul frigo di casa loro appeso con un magnete trovano un foglio scritto a mano da Donna in cui lei racconta tutto quello che Roger le aveva detto quando i paramedici arrivano sulla scena sia Roger che Donna sono ancora vivi l'uomo però morirà nella corsa in ospedale e Donna purtroppo morirà all'età di soli 31 anni un'ora dopo essere arrivata in ospedale la famiglia della ragazza è assolutamente devastata Donna era stata colpita ben sei volte alla testa con un martello secondo gli inquirenti Mark aveva agito per legittima difesa e negli occhi di tutti era visto come un vero e proprio eroe che aveva cercato di salvare la vita di sua moglie nessuno mette in dubbio il fatto che Roger fosse capace di una cosa di questo tipo tranne ovviamente la famiglia di Roger che da subito dice che sì il ragazzo sarà stato anche particolare ma non sarebbe mai stato capace di commettere un atto di questo tipo il caso venne quindi chiuso in circa 48 ore Roger era il colpevole ed era deceduto non c'erano ulteriori indagini da svolgere Mark era davanti agli occhi di tutti anche dei media un vero e proprio eroe Mark il giorno della morte di Donna pensate qualche ora prima ovviamente aveva portato Bailey al lavoro da lui in ufficio per farla vedere ai colleghi e tutti lo avevano visto così felice e sereno era incredibile pensare che solo qualche ora dopo l'uomo avrebbe vissuto la più grande tragedia della sua vita tutti volevano essere vicini a Mark inclusa ovviamente la famiglia di Donna per i successivi quattro mesi a turni o le sorelle o la madre e il padre di Donna venivano a trovarlo per occuparsi di Bailey gli cucinavano cercavano di essergli vicini il più possibile Mark inizia a bere regolarmente spesso usciva e trascorreva molto tempo nei locali nei bar fino a tardanotte e onestamente non mi sento nemmeno di condannarlo ricordiamo che poi ognuno vive il dolore e il lutto a modo proprio l'unica cosa forse un po' strana per la famiglia di Donna che quindi essendo con lui a fasi diciamo alterne aveva visto questi suoi comportamenti era il fatto che Mark guardasse spesso film particolarmente violenti come ad esempio Pulp Fiction e ovviamente la famiglia di Donna pensò dopo quello che aveva passato come poteva diciamo rilassarsi nel guardare questa tipologia di film nel dicembre del 1995 proprio Sarah suggerisce a Mark di assumere qualcuno a tempo pieno che badasse a Bailey loro non potevano fare continuamente avanti e indietro dalla Florida e così Mark assume una tata a tempo pieno che avrebbe vissuto con lui e Bailey Rebecca Rebecca era diciamo una brava persona le importava davvero della bambina e si sentiva davvero addolorata per Mark per quello che aveva passato era rimasto solo Sarah era rimasta in città per un periodo diciamo breve durante le prime settimane di lavoro di Rebecca per istruirla su cosa fare con Bailey voleva essere sicura che la ragazza fosse preparata per questo compito anche a Sarah Rebecca era piaciuta moltissimo si sentiva tranquilla lasciare la nipote con questa ragazza anche Rebecca come l'aveva sentita donna sente una connessione fortissima con Bailey pensava che questa bambina a soli tre mesi aveva già perso due mamme dice che a volte mentre giocava con Bailey nella sala da pranzo quando la vedeva gattonare pensava che su quello stesso pavimento sua madre donna aveva trascorso agonizzante i suoi ultimi momenti di vita e ovviamente si sentiva profondamente a disagio dopo soli due mesi dall'arrivo della ragazza Mark fa un annuncio scioccante infatti Bailey avrebbe avuto un fratellino Mark aveva quasi immediatamente dopo l'arrivo di Rebecca iniziato una relazione con la ragazza e dopo soli due mesi quindi siamo nel febbraio del 96 Rebecca era rimasta incinta di Mark la famiglia di donna era sorpresa se da un lato era comprensibile il fatto che prima o poi Mark sarebbe andato avanti con la sua vita non pensavano certamente che lo avrebbe fatto dopo nemmeno sei mesi dalla morte di sua moglie tuttavia non volevano creare delle tensioni soprattutto visto che volevano mantenere salda la relazione con Bailey quindi sostennero seppure diciamo solo di facciata la relazione Mark aveva detto che Rebecca era stata un angelo mandato direttamente da donna solo una persona si oppose a questa unione una persona a cui Rebecca proprio non piaceva Diane Schultz la migliore amica di donna credeva infatti che Mark stesse ricominciando troppo presto era infatti particolarmente ostile nei confronti della ragazza quando andava a trovarli si comportava con Bailey come se lei volesse ricoprire il ruolo di madre o di tata e sembrava essere quasi in competizione con Rebecca Mark aveva chiesto una compensazione ad un fondo per le vittime di crimini violenti ed aveva ottenuto un compenso di 25 mila dollari che tra l'altro era anche la somma massima che si poteva corrispondere in questi casi inoltre aveva ottenuto 150 mila dollari dall'assicurazione sulla vita di donna ed infine aveva richiesto un risarcimento in sede civile alla compagnia di Bart Transportation in quanto avevano assunto una persona Roger chiaramente instabile di mente e quindi comunque pericolosa per i loro clienti 5 mesi dopo l'omicidio Mark contatta il detective Cox dicendogli di voler riprendere possesso della pistola che ovviamente era stata ripertata in archivio come prova al detective Cox questo risulta un po' diciamo strano però risponde che non ci sarebbero stati problemi poteva passare in commissariato a ritirarla quando si reca lì però Mark e il detective hanno una breve conversazione ma non sulla pistola o non so su come stesse Mark la sua famiglia ma Mark voleva sapere se le indagini fossero ancora in corso e se stessero investigando su qualcuno in particolare e ovviamente il detective storcia un po' il naso perché non comprende nemmeno la domanda le indagini erano state chiuse in 48 ore e Mark lo sapeva benissimo un'altra persona a cui Mark proprio non piaceva molto era il fratello di Rebecca infatti la prima volta che si erano incontrati aveva descritto in maniera goliardica le sue gesta quel giorno il giorno dell'omicidio di donna ad esempio come lui aveva afferrato prontamente la pistola e aveva descritto nei dettagli la brutalità con cui sua moglie era stata massacrata il fratello di Rebecca ne rimase colpito negativamente lo trovò inopportuno dal momento che era incinta Mark propose a Rebecca di sposarlo la ragazza però inizialmente disse che non le sembrava il caso innanzitutto donna era morta solo qualche mese prima e soprattutto lei era una fervente cattolica non avrebbe mai voluto rinunciare alla sua religione per sposare Mark ma Mark dice qual è il problema rinuncio io alla mia religione e così Mark si converte al cattolicesimo ed inoltre sostiene che sia vero sua moglie donna era morta da poco tempo ma lui aveva avuto un matrimonio così felice con donna che non vedeva l'ora di risposarsi così 14 mesi dopo aver perso sua moglie donna Rebecca e Mark si sposano nell'ottobre del 1996 in un clima familiare molto teso nessuno aveva detto nulla contro quel matrimonio ma tutti ritenevano che ci fosse qualcosa di strano donna era morta da troppo poco tempo vendono la casa al Westview e comprano una vecchia casa di campagna ed un terreno di oltre 4 acri poco fuori città ristrutturano l'intera abitazione trasformandola nella casa dei loro sogni Rebecca partorirà una bambina che chiameranno Anna ed avranno nei successivi anni altri due figli Maddie e Ben era una famiglia numerosa come Mark l'aveva sempre voluta aveva infatti ben 4 bambini adesso Rebecca aveva deciso di non lavorare per prendersi cura appunto dei figli mentre Mark avrebbe provveduto economicamente alla famiglia in quegli anni Mark si allontana sempre di più però dai genitori e dalle sorelle di Donna che invece vogliono rimanere legate all'uomo ma principalmente perché vogliono rimanere legate a Bailey nonostante avesse avuto solo tre mesi nonostante Bailey fosse stata adottata era pur sempre la figlia di Donna e volevano che sapesse di sua madre tramite anche i racconti dei nonni Sarah era sempre gentile e carina con gli altri figli di Mark e anche con Rebecca ma era sempre una dinamica un po' ambigua bisognava infatti sempre spiegare a Bailey chi fosse Sarah perché non la vedeva comunque frequentemente un giorno Sarah regala una collana con un charm a Bailey all'interno del charm c'era una foto di Donna quando Mark se ne accorge si infuria e chiede a Sarah di togliergliela immediatamente aveva detto che vedere la foto di Donna lo aveva fatto sentire a disagio in seguito a questo episodio Mark scrive una lettera a Sarah dicendo che lui non voleva che la bambina Bailey la chiamasse nonna Sarah lo implora di riconsiderare quanto detto ma Mark non sente ragioni la famiglia di Donna rallenta i rapporti con Bailey e l'ultima volta che la vedranno sarà quando la bambina avrà solo tre anni nonostante queste tensioni familiari si può quasi pensare che la morte di Donna ormai sia un fatto relegato al passato in realtà no perché nonostante il caso fosse stato chiuso in 48 ore c'erano ancora delle persone che avevano dei dubbi sulla vicenda oltre al detective Cox c'era anche un altro infatti detective che era arrivato sulla scena quella sera Doug Williamson ricordando come Mark quella sera non aveva alcuna traccia di sangue su di sé sangue infatti e materia cerebrale erano ovunque sulla scena ma gli abiti di Mark sembravano usciti da una lavanderia c'erano delle incongruenze inoltre sul racconto infatti Mark aveva detto di aver sparato il primo colpo trovandosi davanti a Roger cioè Roger lo stava guardando in quel momento ma entrambi i colpi erano stati sparati nella parte posteriore del cranio di Roger quindi in quel momento si trovava dietro e non davanti a Roger anche il padre di Donna aveva delle riserve sulla storia di Mark infatti pensate il giorno del funerale della figlia Mark e l'uomo stavano camminando dopo la cerimonia funebre e l'uomo era rimasto davvero basito dal fatto che Mark avesse iniziato a raccontare i fatti non mostrando la minima emozione o il minimo riguardo per quel genitore che non smetteva di piangere nell'ascoltare quel racconto la stessa cosa che aveva detto il fratello di Rebecca Mark non aveva empatia ed inoltre il padre di Donna sapendo quanto la figlia fosse spaventata da Roger in quella settimana in quei giorni era certo che lei non avrebbe mai e poi mai lasciato la porta di casa aperta o socchiusa quindi quell'uomo come era entrato perché le finestre erano chiuse nessun accesso alla casa era stato forzato e ovviamente c'era la famiglia di Roger che non aveva mai ritenuto possibile che il loro figlio il loro fratello potesse commettere una cosa di quel tipo i media avevano rappresentato il ragazzo come qualcuno che non era e la sua famiglia purtroppo non aveva potuto fare molto a riguardo tutto cambia però nell'ottobre del 1998 Mark non si era sentito molto bene così Rebecca lo aveva accompagnato al pronto soccorso dello stesso ospedale in cui lavorava Donna qualche anno prima e lì avevano incontrato Diane Schultz vi ricordate la migliore amica di Donna tra i due c'era decisamente una certa tensione tra Mark e Diane infatti la donna non era contenta che Mark si fosse risposato quasi subito e lui le dice davanti a sua moglie che quella sarebbe stata l'ultima volta che si sarebbero visti o che avrebbero parlato e nel febbraio del 1999 quindi tre anni e mezzo dopo la morte di Donna Diane va alla polizia e rivela un segreto che si era portata avanti per anni ed anni Mark e Diane erano amanti e questa relazione clandestina era iniziata molto prima della morte di Donna pensate che nei tre mesi prima dell'omicidio Diane aveva iniziato ad avere dei problemi coniugali con suo marito e Mark si era offerto di fargli la consulente matrimoniale per cercare di aiutarli a risolvere quei problemi quando in realtà i due andavano a letto insieme all'insaputo ovviamente dei rispettivi coniugi Donna si fidava di Diane era la sua migliore amica era incredibile che l'avesse tradita così Diane racconta alla polizia che una volta Mark aveva detto che tutto sarebbe stato più facile se Donna fosse morta e aveva cercato di coinvolgere nell'architettare il piano per uccidere Donna anche Diane aveva detto a Diane che sarebbe stata a lei a trovare il corpo mentre lui avrebbe fatto in modo dopo averla uccisa di fingere di trovarsi fuori città per lavoro Diane gli aveva detto che era un pazzo ma non aveva mai creduto che potesse davvero fare una cosa di questo tipo aveva raccontato a Diane dell'episodio con Roger e disse che aveva finalmente trovato la sua opportunità avrebbe potuto incastrare questo ragazzo doveva solo capire come far venire Roger a casa loro il giorno dell'omicidio di Donna Mark chiama Diane al telefono e le chiede mi amerai qualunque cosa accadrà e Diane risponde di sì non immaginando quello che Mark avrebbe fatto da lì a poche ore e pensate durante i funerali di sua moglie Donna Mark avvicina Diane e le sussurra all'orecchio credo che la polizia mi creda ho fatto questo per noi per stare insieme Diane dice di essersi spaventata perché aveva avuto la certezza che fosse stato proprio lui a farlo lui l'avverte al tempo stesso che non poteva raccontarlo a nessuno altrimenti anche lei avrebbe rischiato la vita secondo me però Diane questa è la mia personale opinione non era così spaventata come ha voluto far credere alla polizia perché anche dopo il funerale di Donna cioè dopo che sapeva che Mark aveva brutalmente ucciso due persone continua una relazione con l'uomo addirittura si scambieranno delle fedi nuziali in cui si prometteranno amore eterno quindi sempre questo nei mesi successivi all'omicidio di Donna e Mark aveva detto di essere suo per sempre ma poco dopo l'aveva sostituita con Rebecca per questo Diane era così gelosa della ragazza non per fedeltà nei confronti della sua migliore amica ma perché lei voleva stare con Mark lei voleva essere la madre di Bailey nella sua mente Rebecca le stava rubando il posto quando Mark la sposa i due definitivamente interrompono ogni rapporto Diane dirà di essere stata divorata dai sensi di colpa per anni ed anni era sprofondata nella depressione aveva iniziato a bere e aveva anche tentato il suicidio più volte aveva detto di aver deciso di parlare dopo circa tre anni e mezzo perché quando aveva visto Rebecca e Mark in ospedale quel giorno le era scattato qualcosa dentro di sé e aveva capito che doveva dire la verità i detective già ampiamente sospettosi nei confronti di Mark riaprono il caso prima cosa dovevano corroborare la relazione tra Diane e Mark ed accertarsi che fosse realmente esistita e questo viene confermato dalle innumerevoli chiamate e messaggi tra i due analizzando la scena del crimine vennero confermate tutti quegli aspetti diciamo poco chiari che vi ho già spiegato prima Mark non aveva tracce di sangue fatto incompatibile con il suo racconto non c'erano segni di scasso quindi qualcuno doveva aver fatto entrare Roger volontariamente ed essendo donna spaventata dall'uomo certamente non era stata lei ad accoglierlo in casa inoltre se ti introduci a casa di qualcuno per aggredirlo se pianifichi una vendetta non porti un pacchetto di sigarette una tazza termica per il caffè ma dimentichi l'arma del delitto ricordiamo che il martello era stato convenientemente lasciato sul tavolo della cucina secondo Mark quando invece nell'auto di Roger parcheggiata davanti casa loro erano presenti numerosi oggetti che sarebbero potuti essere usati per commettere l'omicidio come ad esempio un coltello ed una chiave inglese poteva portare con sé una di queste due cose visto che le aveva a disposizione in macchina non poteva certo sapere che avrebbe trovato un martello in cucina ad aspettarlo inoltre Mark nella chiamata al 911 aveva detto di aver sparato una volta sola e quando l'operatore gli aveva chiesto se l'aggressore fosse ancora vivo Mark aveva risposto di sì e che l'uomo stava emettendo dei versi strani e si pensa che per questo Mark avesse chiuso la chiamata per sparare a Roger un secondo colpo alla testa cosa che ovviamente non avrebbe potuto fare mentre era al telefono con il 911 infatti un vicino di casa interrogato quella notte aveva detto di aver sentito due colpi di pistola ma non ravvicinati bensì a 5 minuti di distanza l'uno dall'altro nel momento in cui avevano riaperto le indagini tutte le prove repertate non erano più presenti purtroppo in archivio e questo perché quando Mark aveva fatto causa alla BART transportation le prove raccolte erano state date all'avvocato di Mark la pistola ricordate era stata personalmente riconsegnata a Mark qualche anno prima quindi i detective si recono dall'avvocato di Mark per recuperare il file e al suo interno trovano tre foto polaroid tre foto che non erano mai state visionate durante la prima indagine e in pochissimi secondi quelle foto smentiranno completamente la versione di Mark la direzione del corpo di Roger era incompatibile con la versione di Mark quando gli aveva sparato non poteva trovarsi sopra la donna nel mentre dell'aggressione se questo fosse stato vero a seguito del primo colpo Roger sarebbe dovuto cadere all'indietro con i piedi in direzione di donna ed invece dalla foto era chiaro che la dinamica era stata un'altra i corpi erano distanti l'uno dall'altra e le gambe di entrambi erano distese nella stessa direzione non uno contro l'altro l'analisi delle tracce di sangue svolta dai periti della scientifica conferma che il modo in cui il sangue si era distribuito sulla scena non era compatibile con la versione raccontata da Mark la coinquilina di Roger Susan al tempo dell'omicidio aveva dichiarato che Roger il giorno prima aveva ricevuto una chiamata in cui un uomo gli aveva detto di volerlo incontrare il giorno seguente l'indomani e Roger se lo era appuntato su un bigliettino di carta lo stesso bigliettino che avevano trovato nella sua auto quell'uomo infatti era Mark e lo aveva chiamato per andare da lui l'indomani per incastrarlo dell'omicidio di sua moglie ovviamente il povero Roger non poteva sapere che era stato invitato a quell'incontro per essere brutalmente ucciso e poi incastrato per un omicidio il 24 agosto del 1999 alle 11 del mattino Mark viene arrestato sul suo posto di lavoro al momento del suo arresto Bailey aveva solamente 6 anni e il loro figlio più piccolo cioè il figlio di Mark e Rebecca aveva solamente un anno il processo inizierà nel maggio del 2002 la famiglia di Roger sperava finalmente di poter provare l'innocenza del proprio figlio e del fatto che anche lui era stata una vittima la famiglia di donna inutile dire che non riusciva a crederci che quell'uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla l'aveva colpita alla testa con un martello sei volte mentre la loro bambina si trovava nell'altra stanza infatti all'inizio del processo si schiereranno sorprendentemente dalla parte di Mark difendendolo a spada tratta Rebecca fu davvero colta di sorpresa era profondamente scioccata disse che nei pochi anni in cui erano stati sposati non era mai stato violento nei suoi confronti lei non si era mai sentita in pericolo o a disagio con lui e rimane accanto al marito durante tutto il processo la difesa sostiene che Roger voleva vendetta perché Donna l'aveva fatto licenziare e avanzò all'ipotesi che magari i paramedici avessero spostato i corpi per questo magari dalle foto delle polaroid non si trovavano uno davanti all'altro ma quelle affermazioni erano solo delle supposizioni non potevano essere provate la testimone più importante però era proprio Dian che raccontò tutto quello che vi ho riportato prima e nonostante il fatto che avesse nascosto informazioni di questo tipo per così tanti anni sia un crimine a tutti gli effetti le era stata garantita l'immunità in cambio della sua testimonianza la difesa cercò di screditare Dian dicendo che era una donna ferita che era una donna gelosa e che quindi voleva rovinare l'uomo i fatti erano andati come segue quando Roger si era presentato a casa di Mark donna si trovava nella stanza matrimoniale con Bailey quindi non aveva visto Roger entrare in casa Mark fa accomodare Roger al tavolo della cucina e senza che se ne possa accorgere gli spara un colpo alla testa donna sente lo sparo e corre in cucina lasciando quindi Bailey sul letto inizia probabilmente una volta vista la scena ad agitarsi ed ad urlare e sarà lì che Mark affererà il coltello e la colpirà brutalmente alla testa per sei volte una volta finito chiama il 911 ma quando si accorge che Roger era ancora vivo attacca il telefono dicendo che sua figlia stava piangendo nell'altra stanza e finisce Roger con un secondo colpo di pistola la giuria delibera per la colpevolezza di Mark Winger su tutti i capi d'accusa alla fine del processo dopo che tutte le prove vennero presentate la famiglia di donna capisce che era davvero Mark Winger quell'uomo che loro avevano amato veramente come un figlio ad avergli tolto la loro amata donna e furono anche profondamente addolorati per la famiglia di Roger per sua madre per sua sorella anche loro avevano perso un figlio un fratello e tra l'altro era stato denigrato per anni da media come un pazzo assassino quando poverino era stato veramente una vittima innocente della follia di Mark il detective Charlie Cox si scuserà pubblicamente per l'errore commesso nel 1995 assumendosi la piena responsabilità delle sue azioni e scusandosi più e più volte con la famiglia delle vittime soprattutto con la famiglia di Roger sì era stato certamente affrettato a chiudere il caso ma era anche la persona che poi aveva fatto condannare Mark nel 2002 Mark viene condannato a trascorrere il resto della sua vita in prigione senza possibilità di condizionare al Western Illinois Correctional Center Rebecca inizialmente dopo la sentenza continua a credere all'innocenza di Mark io credo che a volte negare l'evidenza sia molto più facile che accettare una realtà così diciamo orribile come quella che si è palesata a Rebecca avrà bisogno infatti di anni per metabolizzare il fatto che l'uomo che aveva sposato e con cui aveva fatto tre figli era un vero mostro e che alla fine anche lei e i suoi figli erano delle vittime Mark tuttavia sostiene anche ad oggi di essere completamente innocente e magari alcuni di voi stanno pensando no ma secondo me Mark non c'entra niente bene sappiate che nel 2006 stava pianificando dal carcere di commettere ben due omicidi su commissione voleva infatti far eliminare Diane Schultz perché riteneva che fosse fondamentalmente colpa sua che il suo perfetto piano fosse andato in frantumi e questo lo sappiamo perché aveva scritto un documento di ben 19 pagine in cui spiegava le ragioni per le quali volesse morta la donna un documento che chiaramente non credeva che le guardie carcerarie avrebbero trovato e letto ed inoltre pianificava il sequestro ed il successivo omicidio di un suo vecchio compagno di scuola che era particolarmente benestante perché quest'uomo si era rifiutato di pagare la cauzione fissata per un milione di dollari quando era stato inizialmente arrestato quando questo documento viene trovato Mark racconta che era solamente frutto della sua fantasia era un racconto di scrittura creativa questo esattamente aveva detto ma Mark aveva parlato dei suoi piani di vendetta con moltissimi detenuti alcuni dei quali testimonieranno a processo perché Mark verrà accusato di murder solicitation cioè vale a dire con l'accusa di pianificare l'omicidio di due persone su commissione per il quale viene dichiarato colpevole e condannato ad ulteriori 35 anni di reclusione come se l'ergastolo non fosse abbastanza ecco Rebecca ha cresciuto tutti e quattro i bambini da sola nessuno di loro ha rapporti con il padre si rifiutano proprio di averne ed hanno anche cambiato il loro cognome e grazie a Rebecca nel 2019 la famiglia di Donna si riavvicina a Bailey infatti durante il Memorial Day di qualche anno fa Rebecca e i suoi figli sono andati a trovare la famiglia di Donna in Florida pensate che Sarah non vedeva sua nipote Bailey da 21 anni l'ultima volta che l'aveva vista aveva 3 anni e nel 2009 ne aveva 24 quindi insomma una donna a tutti gli effetti c'è per caso qualcuno che crede che Mark sia innocente perché lui ancora sostiene di esserlo tra l'altro oppure siete un po' tutti d'accordo sul fatto che sia stato Mark niente sono veramente curiosa di sentire le vostre opinioni grazie mille tra l'altro per tutti i feedback che mi avete dato ho fatto una domanda nella community su secondo voi cosa dovrei migliorare durante i miei video ho fatto screenshot di tutto e lavorerò prometto su ogni singolo aspetto pian piano per migliorare il canale io vi ringrazio per aver visto questo video per aver passato questo tempo con me e ci vediamo domenica con un'altra storia ciao